Il questore della provincia di Crotone ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento nei confronti di altrettanti giovani tutti residenti ad isola di Caporizzuto. I quattro sono ritenuti responsabili di aver preso parte ad una rissa nella frazione di Le Castella, nota località turistica crotonese che in questa stagione rappresenta uno dei centri più frequentati dalla movida giovanile. La notte del 10 luglio scorso all'interno di un noto locale sito nel citato centro due dei destinatari del provvedimento per futili motivi venivano alle mani. Solo l'intervento di un militare dell'arma libero dal servizio ha scongiurato temporaneamente i più gravi conseguenze. Tuttavia chiamati a raccolta altri giovani le due opposte fazioni si sono affrontati nel piazzale posto all'esterno del locale dando vita ad una violenta rissa interrotta dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Le conseguenti investigazioni condotte dai militari della tenenza dei carabinieri di Isola Caporizzuto hanno consentito di identificare quattro dei partecipanti. Gli accertamenti esperiti dalla divisione anticrimine della Questura, anche mediante l'analisi degli elementi informativi acquisiti in corso di indagine, hanno consentito al Questore di emettere le misure di prevenzione di cui si tratta, combinando a CG CL 93 e di PG CL 95 un divieto di accesso pari ad anni 2 e a LL CL 95 e ME CL 95 un divieto di anni 1. Per tutta la durata del divieto i destinatari non potranno accedere al locale in cui ha avuto in Isola Rissa ma neanche ad alcune zone del centro cittadino specificamente indicate nel provvedimento. Per quanto concerne la provincia di Crotone si tratta della prima applicazione della misura di prevenzione atipica del divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, meglio conosciuto anche come DASPO, Willy perché introdotto nel 2020 a seguito della morte a Colleferro di un giovane 22enne proprio a causa di una rissa. Grazie a tutti.